E poi c'è l'ultima Thule, che è l'ultima canzone che ho scritto e che l'idea è di tantissimi anni fa, addirittura, credo addirittura dopo Radici, pensando, se il prossimo sarà l'ultimo disco, pensate anch'io come profezie non sono stato un granché, ma devo chiamare l'ultima Thule, perché leggendo qui un libro, avevo scoperto questa mitologia di quest'isola fantastica sul dell'estero nord, e così è venuta fuori l'ultima Thule, come la navigazione di un marinaio che è rimasto solo, senza più l'accio, ma parte per il nord, dove pensa di essere qui definitivamente dimenticato, lui e la sua nave dimenticati. Ecco questo, ecco, quindi questo è il ritiro dell'attività agonistica di cantautore, no? Sì, 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 ma se ti viene in mente un motivetto qualcosa, non lo butti giù, perché ormai hai detto che... No, no, ma non suono neanche più la chitarra, proprio non suono più, e ho scritto una canzone per i nomadi, ho chiesto Beppe Carletti una canzone per i nomadi, e ho scritto questa canzone, che credo stiamo già eseguendo, che si chiama astutamente Nomadi, e c'è una confianata bestiale, certo. Quindi, ecco, hai scritto ancora? Sì, sì, ma se mi viene un'idea così, non hai detto che non ne scrivo più, ma adesso scrivo lì. Grazie.